Convocati gli stati generali degli alpini, si apre la via al percorso organizzativo che porterà l'adunata nazionale di maggio 2024. Tra 15 giorni la prima tappa degli incontri con l'ANA provinciale e gli enti interessati in cui saranno definite le aree di lavoro legate alla viabilità, ai trasporti, alle palestre, alla ricettività, ai servizi di igiene ambientale per ospitare l'evento che torna in città dopo 33 anni di attesa. Tra 15 giorni faremo una riunione in uno Stato generale coinvolgendo tutti gli enti interessati, quindi ci sarà anche la provincia, ci sarà il SWT, ci sarà l'AIM, la polizia, le forze di Stato attraverso la quale andremo ad benascandire tutti quelli che sono i passaggi e settori interessati in modo tale da consegnare una bella brochure di impegni al presidente provinciale Lino Marchiori il quale poi farà da capofila per lo svolgimento e il percorso in avvicinamento alla donata 2024. Ruolo delle penne nere che si amplia in città e che diventa parte integrante anche delle attività che esulano dagli aspetti puramente emergenziali. Oggi la firma di una convenzione tra Comune e Sezione Alpini di Vicenza-Monte-Pasubio che rafforza la collaborazione già in atto e la estende per il prossimo triennio nell'ambito di attività di supporto e assistenza anche durante eventi e manifestazioni comunali. Ci sarà un intervento chiaramente in fase emergenziale ma questo fa parte del nostro statuto e nel nostro DNA. Poi altre attività socioassistenziali, divulgative, informative o attività o manifestazioni di carattere comunale che il Comune andrà a coordinare con noi dal punto di vista della sicurezza e di affiancamento. Grazie a tutti.